Ci troviamo presso il data center di Aruba Ponte San Pietro. Stiamo facendo un evento in collaborazione con Cionette e con il nostro partner tecnologico WMWare. Ospitiamo 15 CIO di primarie aziende nazionali e internazionali. Ci stiamo ponendo l'obiettivo di raccontare loro come insieme indirizziamo le richieste del mercato. Siamo qui oggi alla data center experience con Aruba. Aruba per noi è un partner importantissimo con cui collaboriamo da molti anni e con cui condividiamo una visione comune del cloud e delle strategie di trasformazione IT. Siamo chiaramente fornitori di tecnologia e usiamo questa tecnologia per accompagnare i clienti in quello che noi chiamiamo un'evoluzione cloud smart, cioè la capacità di dare a loro la giusta piattaforma sia per le applicazioni tradizionali che per le applicazioni cosiddette cloud native, in modo che ogni ambiente applicativo possa trovare la giusta collocazione nella giusta piattaforma. L'esperienza prevede un giro all'interno delle nostre facilities, all'interno dei nostri data center, in cui facciamo toccare con mano ai nostri clienti i livelli di sicurezza, i livelli di resilienza che riteniamo rappresentino un'eccellenza che vincoliamo al mercato.